Ma come viene amministrata Taranto questa città? Come si può fare turismo? Se ascoltate quello che è accaduto questa mattina in Viale del Tramonto a San Vito, veramente significa che c'è da ripartire proprio dall'inizio, partire dalle fondamenta, per questo mi sono candidato sindaco, perché voglio completamente ristrutturare il modus operandi di questa città, proprio in ambito, innanzitutto in ambito di gestione delle risorse naturali. Ho un cittadino, un abitante, un frequentatore della zona, come sapete qui tutta la riva di Viale del Tramonto e invaso dalle alghe, un fatto che si verifica ogni anno. Cosa è successo questa mattina? Anziché togliere, allontanare, rimuovere dalla riva le alghe e quindi raccoglierle e portarle via, ovviamente, rimuoverle per rendere l'accesso al mare normale, rendere il mare, la spiaggia accessibile, cosa hanno fatto? Una ditta specializzata, penso convenzionata con il comune che ha in appalto il servizio, ha ritenuto opportuno prendere queste alghe e anziché spostarle verso l'interno per poi rimuovere, le ha riversate proprio sulla battigia, proprio sulla riva, a tal punto che, come vedete, una persona non può entrare. Guardate, se io devo andare in mare, lo vedete, devo imbattermi nelle alghe. È un qualcosa di assurdo, forse si stava meglio prima di rispostarle. Ecco, un abitante, un frequentatore dell'area, ci racconta quello che è accaduto. Stamattina, quando siamo arrivati in spiaggia, abbiamo trovato appunto questo escavatore che stava spostando le alghe che erano sulla battigia in mare, in acqua, creando così, rendendo impossibile la fruizione sia della spiaggia per il cattivo odore che sia dell'accesso in acqua. Alle mie remostranze una signora non meglio identificata, che non si è qualificata, ha detto che dovevano eseguire un appalto. Non c'è modo e modo di farlo, no? Certo, al che ho suggerito di documentarsi, di farlo in un modo più congruo, ma non c'è stato verso. Hanno continuato il loro lavoro e dopo le mie insistenze la signora ha preferito allontanarsi, per non dire dileguarsi, senza proferire nessuna parola. Le cose assurde, lo ripetiamo, le alghe, anziché spostarle verso l'interno per poi rimuovere, cosa fanno? Vengono buttate, immesse nuovamente in acqua. Scusatemi, ma quando uno di voi deve entrare in acqua per fare il bagno, cosa deve fare? Deve entrare nelle alghe? Oltretutto stiamo parlando di una situazione in cui si possono creare infezioni, certamente non stiamo parlando di situazioni sicure dal punto di vista proprio sanitario, della sicurezza? Assolutamente, naturalmente questa manovra che hanno fatto stamattina secondo me è una manovra fuori legge. Capisco che tutto ciò che viene dal mare non può essere versato e scaricato sulla terra, ma c'è modo e modo di smaltirlo in acqua, seguendo dei protocolli dove si dice che tutto il materiale che viene dal mare, alghe eccetera, deve essere caricato su delle bettoline o trasporti idoni e scaricati o a 3 o a 5 miglia lontani dalla costa in mare aperto. Ma perché se no tanto valeva lasciare tutto come stava? Certo. A questo punto? A questo punto statevi ferme, la natura ci pensa lei a fare le cose come secondo i suoi ritmi e secondo i suoi modus operandi. Cioè l'intervento umano deve servire a migliorare le situazioni e non a peggiorarle? Bene, io da giornalista per 21 anni sono sempre intervenuto per queste situazioni, per la vivibilità urbana. Lo sto facendo ora da candidato sindaco, ma quando questa mattina sono stato chiamato sono rimasto allibito, non pensavo che si potesse arrivare a un punto, a una scelta così assurda. Guardate un po' cosa c'è qui, guardate. Se io devo entrare in mare, facciamo fin da ora sono vestito, ma se decidessi di farmi un bagno cosa dovrei fare? Entrare nelle alghe. Ma stiamo scherzando? Ma così si fa turismo a Taranto? Ma come dice Checco Zalone, questi sono del mestiere?